e bello a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video oggi mi andrò a spiegare come fare o cioè come creare delle vostre delle belle intro per i vostri highlights oppure dei monter dovete scrivere green screen 1920x1080 immagini e poi andate su questo qui lo scaricate e ora ci rivediamo sull'app font ok raga dopo essere entrati sull'app font vi lascio il link in descrizione dovete andare su my image prendere il primo c'è il green screen che avete scelto puoi spingere su questa icona e mettere il testo tipo ad esempio highlights hashtag non lo so 10 vabbè poi mettete done size cioè quanto grande lo volete lo mettete al centro style questo qua che è quello più professionale allora copiate le mie impostazioni ok poi mettete done e avrete il primo primo step ora ci rivediamo sull'app di edito come poi poi dopo averlo fatto dovete salvare come png e poi sarà fatto dopo essere entrati sull'app kinemaster dovete scegliere un progetto cioè dovete ok poi appena entrati dovete prendere il vostro green screen e metterlo come primo poi dovete andare sul livello media vabbè il fondo highlight hashtag 10 lo mettete così al centro e ora poi c'è l'animazione questa e sono quelle all'inizio vi consiglio di mettere strofina a destra mentre poi in animazione generale drifting che è figo se è questo qua sempre poi fuori animazione cioè quando esce sto finale verso destra perché l'abbiamo iniziato se vabbè ok ora guardate avete la vostra animazione ora ci andiamo nella mappa cioè nell'altra app sempre il link in descrizione che vi spiego come metterla in una vostra in una vostra cinematica per una entro ok poi comunque lo spingete su quest'icona e esportate ok dopo essere entrati sull'app cup coat dovete prendete la vostra cinematica e ad esempio questa qui dovete mettere ad overlay highlights hashtag 10 lo mettete così che non si vede a kinemaster qui e lo ingrandite poi dovete mettere allora splice filter non vi preoccupate se si vede così poi no aspettate dovete mettere scusate vabbè normal qui ho sbagliato a spingere chroma key sì come chi vabbè ok dopo che spingete intensity e così così si vedrà trasparente poi lo mettete al centro e qui questo sarà la vostra bellissima entro bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto voi mi raccomando iscrivetevi lasciate like e lasciate like se siete in hype per questa season 5 e dislike se non siete voi mi raccomando seguitemi su tutti i social link in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video bello